Il Consiglio regionale ha tra i suoi obiettivi prioritari la promozione e la valorizzazione della cultura e della tradizione piemontese, dove il teatro storicamente ha avuto un ruolo di primaria importanza sia dal punto di vista artistico che architettonico. Un primo strumento di conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico e linguistico del teatro piemontese è certamente costituito dal Centro Gianni Oberto, diretto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e istituito con legge nel 1980, proprio allo scopo di salvaguardare e promuovere il patrimonio culturale, raccogliendo e conservando il materiale esistente e incoraggiando nuovi studi e ricerche anche inerenti alla cultura e alla tradizione teatrale. Il Centro inoltre bandisce ogni anno il premio Gianni Oberto, destinato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso l'Università della nostra regione su argomenti inerenti alla cultura popolare e al teatro. Come Assemblea Legislativa abbiamo da sempre supportato la produzione e realizzazione di spettacoli teatrali di autori classici e moderni della nostra regione, ed è mia intenzione incrementare il sostegno a queste attività. Da quando sono Presidente ho infatti cercato di porre l'attenzione alla cultura e all'identità della nostra regione. Oltre alla realizzazione del tradizionale concerto di Natale con musiche e canti in lingua piemontese, occorre ricordare lo spazio sul sito istituzionale del Consiglio regionale in streaming dedicato ad associazioni musicali presenti sul nostro territorio. Nel salutarvi l'augurio di un felice 2021, più fortunato per un settore duramente colpito come quello del teatro, nella speranza di lasciarvi definitivamente alle spalle questa terribile pandemia. Attraverso i bandi la regione sostiene i progetti e le attività in modo capillare sul territorio. Un particolare riferimento lo abbiamo voluto rivolgere al teatro in lingua piemontese che rappresenta un segmento importante all'interno della nostra cultura. Torino e il Piemonte con i teatri storici hanno ospitato i grandi interpreti dell'Ottocento e Novecento, anche grazie alle province dove la tradizione letteraria e linguistica hanno maggiormente resistito con le loro compagnie amatoriali e con gli attori anche non professionisti. Il teatro piemontese non può e non deve essere considerato minore. Quest'anno il teatro stabile ha celebrato Vittorio Bersezio e Cesare Pavese e questo assessorato ha dato mandato a tutte le realtà culturali di valorizzare le tradizioni e l'identità piemontesi dalla lingua al teatro attraverso autori ed interpreti. L'emergenza provocata dalla pandemia purtroppo è stata drammatica per il comparto della cultura che ha pagato sia in termini economici che professionali un conto che certamente non avrebbero meritato e come regione abbiamo cercato di mantenere vive alcune attività sostenendone la programmazione anche con soluzioni tecnologiche come il web. Abbiamo cercato di dare un sostegno economico agli operatori della cultura pur nella consapevolezza che un pieno ritorno alla normalità sarà possibile soltanto quando avremo superato l'emergenza sanitaria e anche il prossimo anno non mancheranno iniziative analoghe per valorizzare le opere in lingua piemontese e in lingua italiana scritte da autori del nostro territorio. In questa occasione voglio ringraziare l'amico il regista Giulio Graglia che da oltre 30 anni replica quest'importante iniziativa dal titolo dove vanno il teatro e la cultura piemontesi che mantiene viva l'importanza delle nostre radici nel panorama culturale regionale. E questa è la seconda parte la seconda puntata di dove va il teatro e la cultura piemontesi dove vanno dove vanno è un'indagine che quest'anno abbiamo fatto con giornalisti attori registi manager della cultura insomma persone che vivono tutti i giorni il dibattito culturale del territorio quello museale quello del cinema quello del teatro e in generale più in generale della cultura vediamo le loro opinioni buongiorno Emiliano siamo qua per fare questo punto anche quest'anno sulle teatro e la cultura in piemonte o piemontesi da pochi mesi tra l'altro sei direttore artistico direttore della casa teatro ragazzi un'istituzione torinese con grande storia ecco dal tuo punto di vista soprattutto ovviamente quello del teatro per i ragazzi e non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie immagino qual è il tuo punto di vista dove sta andando questa cultura e questo teatro va beh allora io ho avuto la sfortuna non lo so insomma ho la fortuna o la sfortuna a seconda di come si vede il bicchiere sia mezzo pieno mezzo vuoto di entrare nella fondazione teatro ragazzi e giovani giusto nel periodo di crisi per cui il passaggio di consegna avvenuto nei mesi di lockdown del primo lockdown mi sono insediato nel giugno inizio giugno 2020 e abbiamo iniziato un'attività estiva grossa che ha avuto degli ottimi risultati per quanto riguarda il teatro per le famiglie e la sensazione che ho avuto quest'estate che continuo a avere con l'attività che proponiamo online che stiamo realizzando in questi mesi di nuova chiusura delle sale per teatro e che le famiglie abbiano voglia di tornare a teatro di tornare a vedere spettacoli quindi diciamo il primo aspetto il pubblico sta rispondendo bene risponderà probabilmente bene nel momento in cui potremmo ritornare a fare spettacolo e questa è una nota sicuramente positiva l'altro aspetto che riguarda la casa del teatro ragazzi che si occupa come dicevi giustamente tu di nuove generazioni principalmente e il mondo della scuola c'è una connessione molto forte tu lo sai benissimo tra il mondo della cultura dello spettacolo e il mondo dell'educazione della scuola una connessione forte in cui ci sono delle sinergie che sono fondamentali nel senso che noi traiamo l'infa dai nuovi spettatori che possiamo coinvolgere grazie alle scuole e siamo in grado di dare degli strumenti educativi e di formazione alle scuole che frequentano la casa ecco quel settore lì quella parte lì della nostra attività è sostanzialmente bloccata bloccata in presenza stiamo cercando e attiveremo dal 7 dicembre te lo dico in anche prima del 7 dicembre attiveremo una un podcast una serie di podcast che chiamiamo pod stories che sarà ovviamente rivolto alle famiglie ma principalmente al mondo della scuola perché quella componente lì quella sinergia di cui parlavo prima è quella che probabilmente maggior danno sta subendo dalla situazione attuale perché la scuola il mondo della scuola il mondo della cultura sono sostanzialmente due dei settori che hanno sofferto pesantemente dalle chiusure dal lockdown e quindi questa sinergia si è venuta a rompere il il teatro per ragazzi è una linea tradizionale ovviamente della cultura torinese artigianale è rimasta forse un po troppo nella fissità degli anni settanta della sperimentazione quando giovanni moretti teatro dell'angolo e tanti altri gruppi sono partiti attivando questa questa attività però c'è anche una tradizione rai e te lo dico perché io stesso ho fatto per tanti anni la regia dell'albero zurro per dire i programmi per bambini la sede della rai di torino a partire dalla nonna del corsaro nero parliamo del 1961 la tv in bianco nero che dovevi nascere molti anni dopo ma insomma questa è anche la tradizione no ecco a oggi invece le sinergie tu sei un giovane quindi immagino che sei anche proiettato a nuovi linguaggi e anche una nuova visione del teatro per ragazzi e anche crossing tra che so video televisione e teatro ti vorrei stimolare su questi su questo tema allora assolutamente hai fatto un quadro diciamo un riassunto per puntuale e preciso in un minuto e mezzo a torino sotto della situazione attuale sul teatro ragazzi torinese sì torino è uno è stato uno dei centri e lo è tuttora uno dei centri principali di teatro per le nuove generazioni sicuramente uno degli interrogativi che dovremmo affrontare e che la crisi e la situazione attuale ha portato violentemente in primo piano e l'utilizzo dei social media e dei nuovi strumenti di comunicazione all'interno del rapporto tra il teatro e le nuove generazioni faccio un esempio banale in questo momento io immagino perché lo vedo sui miei figli che sono a casa che il lo strumento di socializzazione maggiore che è attivo e che più utilizzate sono i social media fondamentalmente comunicano attraverso video su youtube piuttosto che su facebook piuttosto che su instagram piuttosto che su tik tok per arrivare proprio alle ultimissime alle ultimissime app che sono state sviluppate questa cosa perché dico che bisognerà a un certo punto interrogarsi perché sicuramente modifica la percezione del contenuto nella mente delle nuove generazioni cioè voglio dire sostanzialmente se noi siamo passati a da lo spettacolo dal vivo che aveva dei tempi delle modalità di un certo tipo questi tempi queste modalità si stanno riducendo e temo che la rapidità della comunicazione che avviene in questo momento attraverso i social media ridurrà ulteriormente la capacità di attenzione dello spettatore soprattutto nelle nuove generazioni è anche vero dall'altra parte che noi abbiamo uno strumento meraviglioso cioè la presenza fisica e l'interazione fisica tra tra il performer e lo spettatore sono una potenzialità grossissima che il teatro ragazzi è sempre sviluppato c'è un'interazione molto attiva tra il palcoscenico e la platea e probabilmente questo strumento che è uno strumento che ereditiamo da esperienze passate sarà uno strumento molto utile per superare la crisi di cui parlavo prima cioè la difficoltà dell'attenzione da parte degli spettatori delle nuove generazioni detto questo immagino anche che strumenti come quello televisivo siano fondamentali per la per la formazione delle nuove generazioni e che un'interazione grossa tra lo spettacolo dal vivo e la televisione anche in un contenitore come quello del teatro per le nuove generazioni sia fondamentale per cui assolutamente sì lo ritengo necessario ed è importante anche rinnovare probabilmente i contenuti o le sinergie come dicevi tu per poter arrivare a un pubblico maggiore per poter creare dei contenuti ibridi in qualche maniera tra utilizzo del palcoscenico utilizzo dei nuovi media utilizzo della televisione utilizzo della radio uno degli interrogativi maggiori che mi sto ponendo in questo momento tanto è vero che i podcast che stiamo creando sono fondamentalmente dei podcast radiofonici cioè che utilizzano uno strumento tra virgolette antico ma che perché è stato il primo il secondo diciamo media di massa dopo il giornalismo su carta stampata che però in realtà delle potenzialità molto grandi soprattutto per i più piccoli assolutamente sì perché poi la radio e la fantasia si porta la parola del libro e sostanzialmente esercita un grande processo fantastico e creativo nella nel bambino poi tra l'altro sfondi come una porta aperta la radio come si sa è nata a Torino a Torino ha prodotto tantissimo purtroppo questa tradizione si è poi interrotta ma la tradizione del radiodramma sia per gli adulti sia per i bambini e fa parte della della cultura torinese e è stato tra l'altro da mangiare a molti attori e molti autori anche in questo in questo senso. Le strategie per chiudere e un flash sulle strategie culturali dei tuoi programmi artistici 2021? Prima di tutto il credo che il primo step sia la ricostruzione di un rapporto diretto con il nostro pubblico creare e ampliare ciò che è la casa del teatro ragazzi in una forma diciamo di luogo di condivisione di spazio di condivisione tra la cultura che viene presentata e il pubblico generico che la frequenta. Ricostruire una sorta di agora di piazza dove gli spettatori possano venire non solo a fruire di contenuti teatrali ma anche di altri di altro tipo di contenuti e che sia semplicemente un luogo di aggregazione credo che sia l'obiettivo primario per il 21 diciamo tardo 21 probabilmente estate tardo 21. Abbiamo aperto l'arena nell'estate del 2020 quest'anno costruiremo una programmazione estiva in spazi aperti nell'arena della casa del teatro e un tentativo di interazione tra diversi linguaggi e quindi una proposta anche di musica all'interno dell'arena è uno degli obiettivi che ci stiamo ponendo. Le progettazioni ovviamente dal 21 in poi sono già via in corso d'essere uno degli obiettivi che mi sto ponendo e che credo che sia utile per il superamento della crisi che sicuramente affronteremo perché noi in questo momento siamo in un'emergenza ma prima o poi avremo gli strasciti dell'emergenza che creeranno dei problemi e attuare delle sinergie coproduttive sui nuovi percorsi teatrali per cui costruire rapporti con la di collaborazione sulla produzione ricreare un luogo fisico da frequentare dove gli spettatori e gli artisti possano entrare in contatto diretto. Ringrazio moltissimo un po' al lupo ovviamente per le nuove sfide. I val lupo. A prestissimo, grazie Giulio. Buongiorno Paola, buongiorno e parliamo di questa cultura e questa cultura sul territorio, la cultura in Piemonte. Dove stiamo andando? Allora, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Beh, io spero che stiamo andando dove ci porta il cuore, nel senso di stiamo andando verso sicuramente verso un grande cambiamento che questo Covid ci ha imposto. Parlo di cambiamento perché i musei alla loro riapertura non saranno più come prima. Io posso parlare del caso che conosco perché quello che noi vediamo nella nostra pinacoteca dell'Accademia Albertina, alla riapertura dal 18 maggio in poi, noi piccolissimo museo abbiamo avuto comunque un aumento di visitatori che non ci saremmo mai aspettati perché la gente ha voglia di ritornare, ha voglia di vedere il bello e poi, come dico sempre io, l'opera d'arte ha bisogno dell'occhio umano. Vanno benissimo tutte queste riunioni virtuali che anche noi purtroppo dobbiamo preparare in questo momento per stare vicino al nostro pubblico, però l'opera d'arte ha bisogno della persona fisica che va, che rimane nella sala, che guarda l'opera, che vive di tutto quello che gli può dare il museo. Noi facciamo molte attività che coinvolgono il pubblico e penso che in futuro dobbiamo andare più vicino, più verso le persone e fare delle mostre magari meno eclatanti ma che avvicinano appunto la persona e che gli facciano imparare qualcosa. A me piace uscire da una mostra o quando vado a una conferenza, a una presentazione del libro e dire ho imparato qualcosa, ho visto, ho sentito un messaggio che non conoscevo e quindi la cosa mi rende felice. Questa esperienza forse ha stimolato anche il crossing tra le arti. Noi parliamo con te ovviamente di arte in senso diciamo pieno, ma naturalmente come sappiamo ci sono le cosiddette arti contemporanee, come col Novecento, il cinema, come altre arti, come può essere il teatro e via discorrendo. Oggi come oggi certamente non è un'arte, ma è una tecnologia, c'è il web, c'è lo streaming, quello che stiamo facendo noi. Questo periodo può essere anche da stimolo a diciamo incrementare questo crossing, questi incroci tra le varie arti visive? Certamente. Io quando finisco adesso con te questa chiacchierata, per esempio vado in Accademia a registrare una visita virtuale per la nostra sala dei cartoni, perché nei prossimi giorni abbiamo delle visite con il FAI, con gli amici della GAM, che ci hanno proprio chiesto di farla virtualmente, perché anche se dovessero aprire i musei, e cosa che purtroppo vedo non sarà così, ci avevano chiesto di continuare a farlo comunque in virtuale. E questo fa sì che le nostre scuole dell'Accademia di Fotografia e di Cinema aiutino a impostare questo nuovo discorso del digitale. Per noi è una cosa totalmente nuova. Non faremo concorrenza ad Alberto Angela, però ci stiamo arrivando. Ho visto dei piccoli filmati anche con la musica, e per noi è tutto nuovo. È tutto nuovo, però lo possiamo fare internamente, perché in Accademia, come tu ben sai, oltre alle solite scuole classiche di pittura, scultura e incisione, noi abbiamo adesso anche tutte queste nuove scuole che fanno sì che i nostri ragazzi possano aiutarci a fare questi nuovi filmati e andare sul web in modo dignitoso. L'Accademia di S2B è stata, diciamo, legata molto al territorio. I direttori dell'Accademia sono stati grandi pittori. Io stesso, quando con Rai feci un documentario sull'Accademia, andai ancora a intervistare dei grandi personaggi della Torino, ormai dimenticata tu, poi sei figlia di un papà straordinario e ancora un artista contemporaneo di grande creatività, nella maturità, con grande, diciamo, panciullezza creativa. Ecco, il territorio e i personaggi del territorio, come possono essere valorizzati? La nostra cultura proprio del territorio? Il territorio, naturalmente, parlo della città di Torino, ma in generale del Piemonte. Beh, sicuramente il Piemonte, come hai sottolineato tu, è ricco di personaggi internazionali. Purtroppo, devo dire che, questo sta un po' nel nostro carattere, tutti questi personaggi non fanno sistema. Trovo che bisognerebbe essere più uniti, sapere che gli artisti dell'arte contemporanea, ma anche quelli del mondo della danza o del teatro, dovremmo essere, fare proprio più sistema, essere più uniti per farsi conoscere. Non parlo dal punto di vista internazionale, anche soltanto dal punto di vista nazionale, ecco, per essere più conosciuti e soprattutto per trasmettere un messaggio di grande cultura. Noi qui abbiamo degli stimoli importantissimi, con tutti i musei che abbiamo, con tutti i teatri, con tutte le compagnie, le associazioni, e quindi non siamo di meno a nessuno. Però il problema di Torino è appunto sempre questo problema molto di comunicazione. Comunicazione dove ognuno guarda un po' troppo soltanto a se stesso. Io, guarda, la prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivata in Accademia, ma proprio le persone che vivono intorno, le associazioni di Via Po, eccetera, hanno detto, la prego, non sia troppo autoreferenziale. Io, questa cosa mi è rimasta proprio come messaggio. Infatti tutte le cose che faccio in Accademia cerco sempre di aprirle nel modo più trasversale a tutti. Uncora una domanda, l'ultima domanda. La sfida, diciamo, le sfide saranno tante nel 2021 dell'Accademia che tu presiedi, ma se vuoi indicare una mostra, un'iniziativa, un evento in particolare che stai progettando, e naturalmente ci auguriamo tutti che sia un evento live o anche live, naturalmente. Beh, allora, grazie per questa domanda, perché l'evento che io vorrei già iniziare a promuovere è questa mostra che si chiamerà Disegnare la città, una mostra che io spero di fare per Pasqua, ci stiamo già lavorando, una mostra che valorizzerà il materiale che noi abbiamo in archivio, in Accademia. Parlo del Fondo Casanova e di tanti altri documenti meravigliosi, inediti, e che fanno sì per i visitatori di conoscere meglio la storia della nostra città, perché avremo tutti questi magnifici acquerelli, per esempio di Baratti e Milano, delle poste centrali, e proprio ricollegandomi al discorso di prima, non sarà una mostra appunto autoreferenziale, dove si parlerà e si faranno vedere soltanto materiali dell'Accademia, ma sarà una mostra che coinvolgerà anche altre realtà, come la Fondazione Accorsi, il cortile dell'Università, Baratti e Milano, tutti i portici di Via Po, e dove anche i nostri ragazzi dell'Accademia saranno coinvolti nel nostro ipogeo con delle creazioni, metti il treno reale in 3D, che faranno i nostri studenti, collegati alla mostra più storica che faremo in Pinacoteca. E questo devo farlo per forza in presenza, non posso fare tutto questo in modo virtuale, ci stiamo già lavorando, e speriamo insomma di poterlo aprire in questi tempi. Io ti ringrazio tantissimo, Paola ti do un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti, per l'Accademia e per uno splendido 2021. Grazie. Speriamo per tutti, grazie mille, ciao. Ciao Gabriele, mi fa molto piacere trovarti in questa situazione un po' nuova, ma ormai siamo tutti diventati tecnologi. Ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Esatto, è così. Ma senti, quest'anno mi interrogo di nuovo dove vanno il teatro e la cultura piemontese. Tu hai una visione privilegiata da giornalista, hai, beh sì, certo, gli articoli che tutti i giorni fai sul Corriere, e naturalmente sul tuo blog Gabo, che viene seguito moltissimo da tutti quelli che come me si interessano, fanno e lavorano sul settore della cultura. Qual è la tua... Qual è la tua... In effetti la domanda è questa, dove sta andando? Non lo so, io sono totalmente d'accordo con questa affermazione che sta emergendo ultimamente anche il rapporto Rota, che non è mai particolarmente ottimista. comunque, secondo me, quest'anno hai evidenziato un fatto che, diciamolo pure, è sotto gli occhi di chiunque guardi con un po' d'attenzione. Il problema è che manca la visione. Tradotto in parole povere, come sempre si dice, non è che i soldi che mancano, mancano i cervelli. Mancano i cervelli a tutti, ad ogni livello di decisori. Poi in particolare mancano i cervelli nella politica. Cioè, qui non è più questione di un partito piuttosto che un altro partito. Quello che io mi immagino per la cultura a Torino nel prossimo quinquennio, cioè con il nuovo sindaco, l'ho andato e andato, ma pensiamo al futuro. Io non la vedo bene, perché oggettivamente mancano pochi mesi alle elezioni. Non soltanto non ci sono ancora dei candidati ufficiali, ma io non ho visto in tutti questi anni delle serie proposte né da parte dell'amministrazione in carica, e vabbè, si poteva anche immaginare, ma neanche da parte dell'opposizione. Adesso non vorrei sempre fare il laudato dei tempi felici, ma un Castellani che quantomeno immaginasse un piano per Torino, fatemi vedere qualcosa. Questo vale per tutto. La cultura poi ha in sé l'aggravante di subire in maniera particolare, certamente non è l'unica, ma di subire in maniera particolare perché era già fragile prima tutta la struttura, di subire gli effetti del Covid, della pandemia, ma anche senza la pandemia, perché poi non andiamo a dire vabbè, purtroppo, c'è stata la pandemia, ma anche senza la pandemia. Cosa avete fatto in questi anni per la cultura? se no compiere l'opera di misericordia corporale di seppellire i defunti. E allora su quello si sono impegnati. Quello che devo dire, quello che devo dire a proposito della pandemia è che mi ha invece colpito favorevolmente e che al di là delle mie aspettative, lo devo confessare, i pochi operatori culturali seri che sono rimasti a Torino perché i più sono fuggiti, giustamente, giustamente, è quello che consiglio anche a mio figlio. Chiunque possa deve scappare di qua, perché qua stiamo andando fuori. Però i pochi rimasti, quelli di valore, stanno inventando delle cose. cioè vabbè, il teatro ha delle difficoltà, come fa il teatro. Però proprio giusto punto ieri è partita questa iniziativa della realtà virtuale, della mascherina. Complicato. Però io una volta l'ho usata, quelle mascherine e in effetti hanno un bel hanno un bel come si dice un bel restituiscono una bella situazione. Insomma, può essere interessante, ma quantomeno l'iniziativa è di che monti dal vivo, se non sbaglio. E quantomeno questa è un'idea. Perché? Perché intanto, secondo me, perché il malcone green è uno bravo, quindi quelli bravi di solito le idee ce le ha. Prova ne sia che guardate cosa ha fatto l'uso egizio che è riuscito a inventarsi, a diventare, a far diventare un influencer, un egittologo, diciamcelo. Bravo lui, bravo anche perché poi bisogna esserci anche portati, bisogna sempre parlare per leggere il video. Però le passeggiate del direttore di Greco sono state un blockbuster della pandemia. adesso guardavo contro ogni mia previsione, contro ogni mia previsione guardavo il Torino Film Festival per dire che è gente che non ha mai avuto la minima idea di cosa fosse la dimensione digitale, anzi, anzi, il cinema secondo me è la negazione dell'online. Il cinema deve essere in sala, eppure, eppure non sono andati male, c'è stata una risposta del pubblico, insomma, delle cose succedono, quindi questo cosa vuol dire? Che non è vero che in fondo quello che ho premesso, cioè che i soldi ci sono, non sono i soldi che mancano, sono i cervelli, soldi mancano. I cervelli, diciamo che hanno fatto del loro meglio per liberarsene, però qualche sacca di resistenza la vedo ancora e spero in quello, però attenzione, senza i cervelli nella politica non si va da nessuna parte e su questo io veramente ho delle grosse costruzioni. la progettualità quindi la grande mancanza dalle tue parole e la progettualità del panorama con la visione a ampio raggio diciamo, pensare nel futuro come si potrebbe dire facciamo dei riferimenti anche sulla città non per i cinque anni ma andando nel 30 una progettualità medio-lungo termine tutto questo manca. La pandemia ha stimolato come giustamente dicevi tu le tecnologie, nuovi linguaggi che si stanno formando che si stanno creando tu hai citato il Torino King Festival io ho avuto questa grande opportunità di fare tutta la regia online degli eventi online ed è stata una esperienza complimenti tra l'altro ti ringrazio molto per me molto importante significativa ho sempre lavorato con le nuove tecnologie mi fa piacere che le nuove tecnologie possono arrivare direttamente nel mondo dello spettacolo e lo spettacolo live vuol dire anche però creare nuovi evidentemente linguaggi che vanno un po' a fare crocs in l'uno con l'altro nuove formule molto più snelle si presume ovviamente in questo non tempo abbiamo riscoperto dei tempi più brevi che sono quelli dei social della comunicazione online quindi un nuovo modo di fare cultura va a incrociare teatro televisione social la vedi così nuove tecnologie realtà aumentata e virtuale come dicevi delle mascherine che ti fanno vivere che so l'esperienza di un museo o di uno spettacolo teatrale ma guarda su questo non sarei tanto d'accordo nel senso che queste io le considero delle soluzioni d'emergenza cioè c'è una situazione di un certo tipo e tu rispondi non uso la parola resilienza che detesto però il concetto è quello adattarsi alle situazioni dopodiché non vorrei che succedesse quello non so se qualcuno ricorda quella canzone di Guccini che era volevo fare del cinema che dice ci vuole un linguaggio più chiaro conciso e breve fino a non dire niente signorina cultura venga quasi mi via le mutate cioè attenzione il teatro è teatro il teatro in video con tutta la buona volontà è un'altra cosa a casa mia si chiama televisione chiamatela come volete però io mi guardo il teatro in televisione su Rai 5 ci sono delle cose bellissime perché cose di guardo tutto bene ma non è che dico oggi poverizzo sono andato a teatro certo lo stesso la musica lo stesso tutto lo stesso cinema lo stesso cinema io non è che quando mi guardo un film a casa dico sono andato al cinema andare a teatro andare al cinema andare al concerto è un gesto culturale profondamente diverso dal dal guardarli su uno schermo quindi su questo andrei piano diciamo che se aperta un'altra strada una nuova strada che deve poi deve convivere con quelle attuali tu mi dicevi il linguaggio dei social e tutto il quale prima hai poi citato questa mia piccola esperienza del blog allora il blog che faccio io è la contraddizione totale di tutte quelle che sono le regole della comunicazione nella rete bisogna scrivere dicono concisi scrivere poco così io scrivo delle pappardelle che fanno fatica a tenermi sul corriere figuriamoci sul blog ma perché io non voglio piacere a tutti e questo forse si sia capito ma non voglio neanche essere letto da tutti io scrivo per chi vuole quella cosa lì siano dieci siano cento mille o un milione no me ne può fregar di meno quindi attenzione a non fare le cose così semplici alla portata di tutte di tutti che come diceva il maestro Guccini alla fine non si inviano più nulla che hai citato Francesco Guccini che è stato per noi come si può dire fonte di ispirazione di crescita culturale degli anni del liceo e quindi mi fa piacere anche le strimpellate fatte con la chitarra soprattutto la riduzione della velenata con le parole naturalmente legate ai professori del mio liceo della mia maturità naturalmente una presa in giro come può forse avrete fatto anche tu con i tuoi compagni liceali mi solletica questa riflessione quindi anche la cultura non deve essere per tutti deve arrivare a tutti ma non può essere per tutti ma io guarda l'ho scritto nell'ultimo pezzo che ho scritto su un corriere cos'è per me democrazia e popolare e concetto di popolare per la cultura e la possibilità di accedere a chiunque ai volonterosi cioè a chi lo merita cioè io non è che ne faccio una questione di classe sociale non ne faccio una questione di livello culturale io conoscevo degli operai che leggevano fior di libri cioè cosa vuol dire io dico semplicemente che non bisogna andare e livellarsi al basso cioè Sofocle Sofocle non è che poi è strano perché nell'Atene del quarto secolo lo capivano benissimo i popolani quindi non è che deve essere poi così complicato però se tu preferisci la domenica andare al centro commerciale ma siamo in un paese libero vai al centro commerciale appena te lo riapro corri al centro commerciale va benissimo così mi dico che sei poco di buono però se io voglio sentire la carne cioè non me la fai con fumetti il teatro di burattini il teatro di burattini è un'altra forma d'arte i fumetti sono un'altra forma d'arte però ciascuno è sul posto non ci sono cose alte e basse c'è svilimento o dignità della cultura tutto lì molto semplicemente e poi non mi si venga a dire ah perché la cultura costa troppo mio figlio va a vedersi le prove generali del del regio costa 5 euro il biglietto per studenti e lui va a vedersi le prove generali con il regio non è che ti fa la pubblica non puoi fare avere un biglietto no e ci mancherebbe ancora metti i suoi 5 e per gli aurini va si sente l'opera è contento basta cioè qualsiasi fatto di cultura può essere accessibile a un prezzo minore di una cena in pizzeria con gli amici uno dice io ho preferito andare in pizzeria con gli amici appena poi vai in pizzeria con gli amici buon cro di faccia io la pizza me la faccio a casa e sto contento così ti ringrazio ti ringrazio tantissimo della chiacchierata Gabriele questo ti saluto grazie del tuo apporto in questa lunga diciamo maratona in streaming buongiorno Laura buongiorno buongiorno Giulia grazie per l'invita figurati mi fa molto piacere e parliamo di questa dove va la cultura e il teatro piemontesi tutti gli anni facciamo questo appuntamento quest'anno è un appuntamento un po' particolare lo facciamo in remoto ma dal tuo osservatorio non soltanto come assessore ma come donna di cultura dove stiamo andando? dunque è una domanda non è una domanda semplice soprattutto in questo periodo che stiamo vivendo perché credo che oggi davvero più ancora che in passato quando comunque già la domanda ce la potevamo porre ce la ponevamo molte delle vecchie parole non funzionano più è difficile trovare delle parole nuove dall'oggi al domani non è ancora possibile farlo nell'arco di questi pochi mesi che abbiamo vissuto dall'inizio di questa rivoluzione della nostra vita della nostra società ecco io credo che vada ripensato tutto compreso il modo di imparare compreso il modo di parlare compreso il linguaggio in questo caso e parliamo di una lingua della lingua piemontese ecco io sono convinta che intanto sia necessario guardare in un'ottica per usare un termine che si usa oggi glocal cioè pensare a un local ma senza folklore che diventi qualcosa di alto di trasversale che consenta di comunicare il piemontese intanto ha un suo fascino riconosciuto e riconoscibile sempre e non è una lingua morta è come tutte le lingue vive di trasformazioni di metamorfosi di scie che lascia dietro di sé che io ritengo debbano essere non solo conservate ma proprio recuperate e rivitalizzate per quanto riguarda se posso fare un cenno al mio territorio noi abbiamo una rassegna importante da decenni di teatro piemontesi di cui si occupano in particolare tre associazioni ma abbiamo anche avviato proprio su questi temi tre anni fa una rassegna che abbiamo intitolato Moncalieri in canta sulla canzone d'autore sul cantautorato piemontese non in piemontese non necessariamente in piemontese ma piemontese quindi proprio questo per indicare che riteniamo nello specifico insomma parlo per me che sia conservare la tradizione sia importante per mantenere un'identità ma un'identità che diventi proprio perché è solida diventa porosa ed è capace di scambiare anche con le nuove con i nuovi arrivati con i nuovi ingressi con le popolazioni nuove con cui tutti i giorni ci troviamo sempre di più a confrontarci e poi ancora di più credo che in una fase come quella insomma gli studi ce lo dimostrano e ce lo raccontano con dovizia di numeri di dati in una fase come quella che stiamo vivendo anche di fatta di impoverimento del linguaggio poter mantenere una lingua della storia della tradizione ci consente delle sottigliezze linguistiche che ci consentono anche un pensiero più elaborato ecco io credo che sia una questione di parlare appunto di dove va la cultura piemontese sia una questione di linguaggio ma come dici tu sempre e soprattutto una questione di humus culturale questo questo credo che sia fondamentale questo è quello in cui credo e dato che siamo anche nell'anno in cui si celebra Fellini che piemontese ovviamente non è ma mi fa piacere citare cosa dice a proposito del linguaggio un linguaggio diverso e una diversa visione della vita e quindi non ce lo dobbiamo dimenticare neanche a proposito del piemontese poi tu sei conosci bene il territorio presidi anche un'unione delle biblioteche del territorio della provincia di Torino e piemontesità e anche gli autori importanti che il Piemonte ha espresso nel novecento che sta tuttora esprimendo nei giorni nostri prossimo anno o negli anni a venire ricordiamo che so i 110 anni della morte di Emilio Salgari prossimo anno nel 22 ci saranno i cent'anni della nascita di Beppe Fenoglio e tante altre situazioni ricorrenti che ci stimolano a pensare che il territorio ha espresso e sta anche esprimendo tutt'oggi grandi valenze culturali letterarie che sono da stimolo sul territorio assolutamente e come rete di biblioteca effettivamente che ho il piacere e l'onore di presiedere abbiamo un'attenzione continua in questo senso e lo facciamo anche attraverso associazioni che si occupano in maniera scientifica e sistematica di queste tematiche come ad esempio il centro studi piemontesi quindi c'è un'attenzione veramente profonda da parte della nostra biblioteca moncaglierese ma da parte posso dire in generale di tutte le 70 biblioteche che coordino e credo che ci sia un ritorno un ritorno proprio un recupero ma non per chiusura piuttosto come si diceva prima proprio per conoscendosi dialogare maggiormente con l'altro questo lo vediamo anche attraverso un altro lavoro che non è solo quello delle biblioteche che è quello chiaramente proprio culturale diciamo di cultura alta se così possiamo dire ma abbiamo poi anche un lavoro capillare sul territorio da non dimenticare che è quello delle proloco hanno un ruolo molto importante in questo senso proprio nel mantenimento nel recupero della trasmissione delle tradizioni il sulla ecco il rapporto mi stimola brevemente una riflessione tra cultura alta e cultura diciamo popolare perché in realtà le proloco testimoniano un lavoro importante sul territorio di cultura popolare ecco come si possono fondere queste due situazioni spesso volentieri la parola cultura è un po' stratta e rappresenta la cosiddetta cultura alta ma invece dovremmo in qualche modo combaciare la cultura popolare con quella alta e credo che le tue parole vanno in questo senso sì è proprio questo l'obiettivo è proprio quello che ci impegniamo a fare tutti i giorni insomma mi viene in mente ecco tra i tanti che l'hanno fatto benissimo non parlo dell'oggi parlo insomma di del secolo scorso e oltre mi viene in mente il grandissimo lavoro che ha fatto Leone Sinigaglia ad esempio come compositore ecco adeguato ai tempi ecco potrebbe essere quello il vuol dire uno dei percorsi uno dei percorsi Sinigaglia appunto sappiamo è morto proprio alla fine della seconda guerra mondiale se non ricordo male e quindi non parliamo neanche di tempi lontanissimi una via potrebbe essere quella proprio lo studio il recupero e poi dal recupero la restituzione la restituzione sia per quanto riguarda proprio dei percorsi più popolari e sia per quanto riguarda invece delle strade insomma di cultura più alta quindi lo studio l'approfondimento la conservazione la tutela e magari non che non sempre possono essere come dire per tutti nel senso non che non lo sia per l'accessibilità ma proprio perché magari l'interesse diventa come qualunque tema specialistico più limitato mentre a livello più popolare credo che ci siano delle strade che possano assolutamente essere non solo ma anche ampliate le strade volcaglieri è una città alle porte di Torino e per finire vorrei chiederti le strategie delle politiche culturali che presumi attuare nel prossimo diciamo prossimo futuro prossimo anno nel riegno che hai di fronte per quanto riguarda in generale tu mi stai chiedendo in questo momento in generale due o tre linee che ti sei posta alla luce appunto che parliamo di territorio anche se il territorio ovviamente è assolutamente diciamo quasi unito alla città di Torino sì sì non c'è soluzione di questo esatto assolutamente è un lavoro che sicuramente allora grazie per questa domanda intanto mi fa veramente molto piacere perché mi consente di dire per agganciarmi proprio alla tua domanda iniziale mi consente di ricordare da dove sono partita nel senso che io sono stata riconfermata da poco assessore alla cultura turismo e altre deleghe per il secondo mandato io sono partita da una considerazione cinque anni e mezzo fa e cioè che bisognasse innanzitutto far emergere l'identità della città che non vuol dire rimanere ancorati e fermi al passato ma valorizzare cosa di Moncalieri ha di peculiare di valore e trasformarlo se necessario e diffonderlo e quindi sono partita dalla riapertura del castello dall'acquisizione del parco storico del castello reale dal lavoro per la valorizzazione del centro storico della collina che è un elemento fondamentale del nostro paesaggio e dalle sponde del Po senza dimenticare naturalmente le borgate e quelle che sono le attività produttive tradizionali quindi innanzitutto l'ortoflorovivaismo ma anche a partire dalla fine dell'ottocento lo sviluppo industriale quindi dalle distillerie fino ad arrivare all'automotive ecco queste sono le linee che ci siamo dati mi sono data cinque anni fa su queste ho intenzione naturalmente di continuare a lavorare e naturalmente di espandere e approfondire queste tematiche e il lavoro è veramente enorme come possiamo immaginare soprattutto proprio nel in un momento come questo in cui ci siamo ritrovati anche dopo aver fatto un lavoro enorme perché sono arrivata che insomma le prime cito soltanto le conferenze le prime conferenze che organizzavamo erano pochissimo frequentate siamo arrivati a febbraio prima della chiusura in cui avevamo eventi conferenze in biblioteca al castello in altri luoghi della città due o tre ogni giorno e tutti frequentatissimi una biblioteca in cui si doveva mandare via la gente detta male ma talmente insomma c'è stato lo sviluppo è veramente stato grandissimo e a proposito proprio di cultura locale di storia locale tra gli incontri più apprezzati c'erano quelli che abbiamo organizzato in questi cinque anni in collaborazione con il centro studi piemontesi ed erano sempre affollatissimi sicuramente la linea è quella partire dalla riconoscibilità dell'identità dal consolidamento della storia per guardare avanti per guardare avanti sempre coinvolgendo i bambini i studenti i giovani le nuove generazioni per trasmettere quello che è un patrimonio una risorsa fondamentale ma affinché anche queste che sono le nostre risorse siano sempre innestate di nuovi germogli io ti ringrazio moltissimo ti auguro un momento e faccio un bocca al lupo per le grandi sfide culturali del 2021 sperando che chiaramente si ritorni alla normalità e quindi agli eventi live ti ringrazio ancora molto Laura grazie grazie Giulio grazie a te buona serata e complimenti per questo magnifico lavoro che stai portando avanti da sempre ma nello specifico questo appunto in questi ultimi anni grazie grazie ciao Paolo ben ritrovato e beh parliamo stiamo facendo questo appunto quest'anno così con le call ma torneremo live dove va questa cultura del territorio non soltanto la cultura prettamente voglio dire locale ma il nostro sistema culturale della città della regione sta andando ci sono degli indirizzi parliamo dal generico per poi arrivare sul sistema cinema diciamo secondo dal tuo punto di vista va da qualche parte io credo che il 2020 lo ricorderemo come un anno di criticità e transizione senza senza precedenti in cui la nostra regione si è trovata molto vicino a quello che è uno degli epicentri di questa di questa di questa criticità e quindi anche con una con gli osservatori che vedevano noi come come una regione in una particolare situazione di difficoltà molto più di quello che in qualche modo era la nostra impressione io parlo del cinema ma credo che su anche altri settori si possa dire questo in realtà il Piemonte credo che abbia dimostrato una grande capacità di reazione di risposta molto veloce e non è la prima volta in cui c'è questo che avviene di fronte a momenti di criticità dovuti a a problemi e drammi no? Molto eh eh emergenze ecco no? ehm quindi io credo che dove va questa cultura piemontese credo che in tutti gli aspetti il territorio abbia dimostrato di di eh una capacità di reagire di capire quello che poteva essere una una quello che lo so suona retorico ma il trasformare quello che è un grande problema in un possibile ridefinizione di modi di paradigmi di di no? Cioè invece di confrontarsi solo con con queste situazioni in termini di di sopportazione in attesa di un cambiamento si sono messi in moto delle sperimentazioni di di in un modo molto in un modo molto come dire mi viene da dire piemontese da officina da laboratorio in cui ci si imbocca le mani che si prova a capire cosa fare no? Sia il teatro sia i musei sia altre diciamo arti hanno fatto i conti con l'immagine no? Arriviamo sul sistema cinema in realtà abbiamo fatto i conti con certo l'immagine trasmessa magari di bassa qualità trasmessa via call con le piattaforme online con i social ma insomma di immagine si tratta e quindi sostanzialmente sono dei piccoli film dei cortometraggi eccetera proprio diciamo il contendere i film commission che tratta televisione produzione televisiva produzione cinematografica corti documentari in realtà si sono fatti tanti prodotti che sono riconducibili all'essente del sistema cinema ecco come è reagito il sistema cinema e anche in questa diciamo visione che suggestioni possono diciamo nascere guarda cercando di di non apparire troppo ottimista ma molto realista noi nel corso dei mesi abbiamo ribadito con grande forza che si stava lavorando nel senso che c'è stata una breve sospensione dei set più grandi e anche quelli più piccoli per alcune settimane sostanzialmente per marzo e aprile durante durante questo periodo tutti quanti erano ferocemente a scrivere studiare protocolli di protocolli di sicurezza per poter riattivare tutte le attività post produrre montare sonorizzare recuperare gli archivi digitalizzare sono stati mesi di di grande attività in cui pur dal pur da uffici più vuoti pur da smart working e lavoro remotato una filiera audiovisiva che da tempo era digitalizzata e remotata in tanti suoi aspetti ha lavorato tantissimo da maggio sono ripartite le attività di appunto cortometraggi documentari spot televisivi spot format televisivi le riprese i set più leggeri da giugno con un protocollo di sicurezza condiviso tra associazioni dei produttori e parti associazioni dei lavoratori da giugno sono ripartiti anche i set di lungometraggi serie tv di finzione con nuove figure con il covid manager su set e nelle uffici di produzione e nella piazza di posa con nuove voci di spesa come appunto test sierologici tamponi e mascherine e disimpetanti eccetera eccetera ma comunque questo settore è la filiera dell'audiovisivo che è sempre stato molto dinamico abituato agli stop and go a interruzioni ripartenze e reinvenzioni ecco come dire ha lavorato molto ovviamente non avremo i numeri dell'anno precedente nel 2019 in cui avevamo scondato ogni record di tutti i vent'anni di vita di Free Commission con più di 200 titoli però quest'anno ne avremo intorno ai 100 i progetti che sono stati realizzati con il nostro sostegno che con una con un tasso di occupazione professionale molto alto sono dei giorni in cui come dicevi tu un po' tutti gli enti sono diventati broadcaster sono diventati televisioni in qualche modo organizzatori di televisioni di visione a distanza alcuni più alcuni più semplici quasi al confine dell'appunto della zoom call dello smartphone eccetera altri invece molto più sofisticati fino ad alcuni che sono stati sofisticatissimi ci sono tutta una serie di esperimenti di spettacoli dal vivo performance che sono state rese disponibili online o sui canali televisivi ecco in questo senso il nostro la nostra filiera dell'audiovisivo sta lavorando tantissimo ci sono alcune figure professionali su cui stiamo ragionando di dover trovare delle altre persone perché c'è c'è una domanda su alcune figure professionali superiore all'offerta in questo momento e quindi è stato un anno in cui paradossalmente no si è lavorato tantissimo e questo è molto bello importante ed è importante saperlo e dirlo perché comunque è un segno di prospettiva di futuro il cinema e l'audiovisivo a me piace dirlo proprio appunto così per dire che non stiamo parlando soltanto dei film quali vedo l'immagine alle tue spalle di uno dei classici del grande cinema francese ma ecco noi ci occupiamo dell'audiovisivo in tutti i suoi aspetti in tutte le sue forme i suoi formati le sue durate e le sue destinazioni dal film studentesco dall'autoproduzione al Colossal e quest'anno oltre ai Colossal hollywoodiani a questo punto abbiamo avuto anche il Colossal dell'India questo è stato un nuovo risultato di cui siamo molto orgogliosi di avere un mercato cinematografico che è immenso che non vuol dire solo India ma vuol dire appunto una diffusione globale è stata un'esperienza proprio nell'anno del Covid avere una troupe mista indiani e italiani al lavoro con grande fervore ad avere il Piemonte come un coprotagonista insieme a delle star da milioni e milioni di click per cui appunto come dire dove va la cultura piemontese nella cultura piemontese il cinema e l'audiovisivo è molto legato allo stesso territorio non solo perché il cinema italiano è nato qua negli anni del mutuo ma come dire ma perché essendo un luogo in cui l'arte convive con l'artigianato e anche con la tecnologia no? il set della produzione cinematografica televisiva vede con presenti un grande pensatore una star macchinisti elettricisti tecnici falegnami truccatori è una vera propria città nella città in cui un certo una certa cultura del lavoro no? che è molto nostra trova una naturale consonanza anche quando non è esplicitamente raccontato il Piemonte ma si è un set a cielo aperto ecco questo è un risultato importante per chiudere Paolo è citato appunto alle mie spalle la Nouvelle Vague perché siamo forse alle porte di una Nouvelle Vague che non è quella sperimentale del cinema francese Cavallo tra gli anni 50 e 60 ma sarà una Nouvelle Vague come dicevi giustamente tra età artigianato e tecnologie le crossing di arte con gestioni varie televisioni social cinema e via discorrendo 20 anni tra l'altro qualche occasione anche per salutare il presidente Paolo Damilano in questo anniversario in questo compleanno di Film Commission e anche del Museo Nazionale del Cinema perché anche lui compie 20 anni ecco le prospettive e i progetti se vuoi lanciare due o tre flash delle iniziative di Film Commission dei bandi delle iniziative sul prossimo anno allora noi continueremo a lavorare sostenendo la produzione in tutti i settori con i nostri servizi con i nostri fondi ecco alle mie spalle c'è una cartina del Piemonte in cui vedete segnati diversi punti più di 20 luoghi su cui è stato sviluppato un accordo specifico con le istituzioni locali ecco uno dei uno dei lavori che faremo nel 2021 è estendere ulteriormente la presenza delle produzioni cinematografiche e televisive su tutto il territorio abbiamo già fatto dei passi in avanti negli ultimi negli ultimi due anni negli ultimi mesi anche c'è stata un'ulteriore accentuazione di film che forse lo sapete ma lo immaginate tendenzialmente il cinema tende molto a concentrarsi intorno alle capitali Parigi Londra Lisbona Roma ovviamente e anche in dimensione regionale molto è stato girato e si gira a Torino ecco una delle prospettive con cui stiamo lavorando molto con regione Piemonte ovviamente è quello della estendere e fare in modo che tutto il territorio sia un luogo da un lato sia protagonista sia raccontato visto e portato in tutto il mondo e due come dire tutto il territorio viva di un'economia immediata anche non solo quella in prospettiva poi dei turisti ma quello che c'è nell'immediato perché ogni produzione che arriva significa significano delle economie delle buste paga delle fatture dei ristoranti alberghi eccetera e quindi siamo molto felici di coinvolgere tutto il Piemonte l'altro discorso è quello della formazione stiamo lavorando con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino per un progetto innovativo di formazione perché è importante ripeto procedere a un ricambio e un ricambio generazionale un allargamento di quelle che sono le prospettive professionali professionali artistiche del cinema in qualche modo siamo anche qua c'è una tradizione molto piemontese di scuola e lavoro c'è una tradizione molto specifica di quello che è il mondo dell'educazione della formazione e dell'avviamento a realizzarsi come persone e come lavoratori bene questa è una delle grandi prospettive su cui vogliamo lavorare nel futuro proseguire su questa via ma espandendo ed estendendoci sul territorio e verso il futuro grazie ancora buon compleanno allora alla Film Commission e prossimamente per i nuovi diciamo traguardi grazie Paolo grazie molto grazie a presto buona serata a tutti eccoci buonasera ben ritrovata parliamo della questa cultura del territorio dove va il teatro e la cultura piemontese sul territorio dal tuo osservatorio come imprenditrice ma anche come donna di cultura secondo te ha una direzione ci sono delle strategie va da qualche parte la nostra cultura del territorio le politiche culturali della città e della regione dove ci stanno conducendo allora io credo che ci siano delle direttive come se fossero delle grandi autostrade che hanno indirizzato un po' il lavoro di questi ultimi anni sulla cultura torinese e piemontese in senso più allargato è chiaro ed evidente che si fa i conti contro un periodo purtroppo negativo su tutti i profili primo da un punto di vista dei budget perché noi sappiamo che la nostra regione e il nostro comune scontano anni non mesi ma anni di carenze economiche significative a questo si aggiunge un disagio anche a livello imprenditoriale perché noi sappiamo che l'impresa ha sempre fatto da mecenate della cultura ai tempi più antichi e purtroppo nell'ultimo periodo l'impresa torinese il piemontese ha risentito molto delle varie crisi territorio molto legato all'automotive non solo che ha avuto quindi grandi disastri da un punto di vista delle aziende quindi questo sicuramente ha avuto un impatto molto negativo con la cultura e poi siccome come si dice per la nota legge di Marchi le cose non vengono mai tutte sole il covid ci ha dato l'ultimo elemento e l'ultima botta di grazia quello che c'è da dire però e qui apro il lato positivo e metto il cappello da imprenditrice che è sempre quello dell'ottimismo e che però l'imprenditoria piemontese e torinese sono culturalmente parlando non solo culturalmente ma in generale straordinarie perché se ne inventano sempre una nuova quindi a fronte di una situazione di questo tipo che quindi metteva veramente molto in difficoltà e in pericolo lo sviluppo della cultura di un territorio che culturalmente è sempre stato molto avanti rispetto al resto d'Italia si supplisce tutto questo proprio con la capacità di inventare percorsi nuovi percorsi alternativi seguendo però delle direttive di pensiero che arrivano da lontano ecco perché dicevo che ci sono delle strade tracciate già non in tempi recenti ma in tempi passati che vengono inseguite con metodi nuovi e ci sono tanti esempi sicuramente questo Covid ha accelerato la tecnologia abbinata alla cultura perché tutti sono andati alla rincorsa di aggiornamenti il teatro sta cercando nuove formule espressive che non siano quelle live ma anche così l'attività museale con delle visite virtuali con la realtà aumentata ci sono esempi che vanno dal museo Egizio al teatro stabile tanto per dire due situazioni e due settori differenti ecco non ci sarà un punto di non ritorno quando tutto tornerà non dico come prima ma speriamo nella normalità comunque gli aspetti tecnologici ci avranno dato e ci avranno suggerito anche nuove strade di comunicazione e di creatività artistica come la vedi questa commissione questo crossing tra le arti e le nuove tecnologie guarda io credo che se è vero come è vero che le nuove tecnologie ci abbiano salvato in questo periodo di covid perché viva Dio non ci possono stare neanche i computer e i telefonini per collegarsi saremmo morti credo però è anche vero che non si può prescindere da quello che si può definire anche nell'arte del contatto umano è fondamentale cioè vedere uno spettacolo in streaming o vederlo dal vivo non sarà mai la stessa cosa per cui e così vale per una sfilata per una mostra d'arte perché le emozioni si trasmettono non solo con le immagini ma con le vibrazioni delle persone che sono lì col contatto con lo scambio parlare con l'artista quanto è importante conoscere un artista quando nelle opere che ti racconta dal vivo con le sue emozioni con la sua emotività quello che c'è dietro l'opera quindi io credo che una cosa non sostituirà mai l'altra e viva Dio che non lo faccia perché è importantissimo che rimanga questa parte umana che tra l'altro devo dire è fondamentale per il nostro paese perché noi siamo quello quindi se in altri paesi questo è meno sentito per l'Italia e gli italiani è il nostro plus perché noi siamo capaci di descrivere emozioni in maniera totalmente diversa dagli altri e il video lo fa ma lo fa in maniera più fredda e se pensiamo a quanto oggi si racconti proprio nelle varie come dire nei vari racconti del covid quanto manchi la parte fisica in questo momento di difficoltà più che non tante altre cose pensiamo agli abbracci delle persone anziane nelle case di riposo questo ti dà il metro di quanto sia importante l'aspetto fisico dell'arte l'arte è emozione l'arte è calore l'arte è vita la vita va trasmessa di persona siamo caduti in uno spazio di tempo non tempo e di luogo non luogo e anche di una fisicità sottratta che vuol dire fisicità anche negli estremi se vuoi negativi ma vuol dire anche comunicazione attraverso come dicevi tu un abbraccio una carezza una gestualità anche banale che può essere una stretta di mano una pacca sulla spalla ma torniamo all'inizio mi preme il sistema culturale ha bisogno di un sistema economico progetti fondi interventi dell'amministrazione pubblica ma anche interventi delle fondazioni bancarie e dei privati questo equilibrio come si può ricercare e come si potrà adesso ricercare dopo questa crisi economica enorme forte che ha colpito ovviamente tutto il settore della cultura come ci può essere una strada da cita un'unione sul sistema diciamo economico budgetario tra pubblico fondazioni private e privati intesi come sponsor che sempre meno sono propensi all'intervento soprattutto dove le casistiche non sono internazionali non parlo della fiera nazionale del libro non parlo dei grandi momenti o del salone del gusto parlo della normale attività culturale che è poi quella alla linfa del territorio ecco come lo vedi questo equilibrio e come si può ricercare questo equilibrio nel prossimo futuro ma guarda io credo che iniziative importanti che hanno dato i loro frutti ci sono state e potrebbero essere riprese come casi studio ed esempio per fare future come dire legislazioni che possano aiutare proprio questo tipo di discorso vi faccio un esempio molto facile il discorso della credo per la parte della cinematografia no per cui tu Davi come imprenditore dei soldi per fare dei film e questi ti venivano dati indietro come credito d'imposta no esatto che questo tipo di operazioni siano molto interessanti perché permettono a chi vuole dare una mano alla cultura chi crede nella cultura di poterlo fare anche in momenti difficili come questo per cui non devi scegliere se vogliamo tra un investimento che ti tiene attiva l'azienda e una cosa che per quanto ti prenda l'anima non è però strategica per la tua azienda ma puoi fare entrambe le cose questo tipo di soluzioni possono essere quelle che in futuro possono risolvere parte del problema questa è la prima cosa e la seconda cosa che ho vissuto moltissimo sulle esportazioni è fare sistema fare squadra cioè io ricordo gli anni in cui abbiamo fatto le missioni all'estero con Renzi che c'era un sistema paese confindustria la parte dello stato del governo tutti i sistemi sace simestice tutti quei sistemi che aiutavano l'industria ad esportare lavoravano insieme per cui tu ti presentavi come un paese unico abbiamo fatto più 7,5% di export hanno record nella storia italiana allora questo che cosa vuol dire che se le fondazioni la regione il comune o i comuni gli imprenditori si mettono insieme e fanno progetti condivisi anziché ognuno al proprio progettino da niente ma fanno pochi progetti importanti insieme mettendo a sistema tutte le eccellenze del territorio ce ne sono tante guadagnano il territorio diventano progetti molto più importanti quindi con un coté molto più internazionale che quello richiesto come dicevi tu prima e soprattutto diventano delle come dire danno dei risultati che sono visibili per tutti e che creano quindi quel giro mediatico che oggi ti serve per far sì che si investa ancora di più io condivido e sposo completamente questa visione perché i mondi quello dell'impresa quello dell'industria quello della cultura sono sempre andati un po' per la loro strada non hanno mai e naturalmente quello della cultura essendo inevitabilmente il più debole ha sempre avuto grandi difficoltà ripeto salvo quei due o tre grandi interventi internazionali che il territorio ha espresso di grande qualità però si è poi disperso in tanti piccoli rivoli che contano poi alla fine poco o nulla e anche le ricadute sono tutto sommato insignificanti e poi ti interroppo ma perdi anche i talenti perché in mezzo a tutti questi rivoli c'è tanta gente bravissima che non può esprimersi perché non ha la possibilità no? perché si perde la possibilità è giustissimo non ha l'occasione e l'ultima cosa sulle strategie invece delle politiche culturali se dovessi siglare nel prossimo futuro non dico nel futuro proprio prossimo ma a larga gittata quali sono un'idea due idee che ti vengono in mente sul territorio la penso un po' diciamo sul futuro pensando ai prossimi cinque anni dieci anni una visione più globale qual è il segnale che daresti? guarda io credo che bisognerebbe allora scusa forte anche dell'esperienza che ho fatto in compagnia di San Paolo dove ho visto passare dei progetti culturali straordinari ripeto quello che ho detto prima scusa sembrerò prolissa ma perché credo molto in quello che sto per dire concentrazione cioè decidiamo quali sono i progetti in cui crediamo siano essi dieci cinque venti non importa adesso io non ho e non ho le competenze per poter stabilire quali sono e quanti siano ma concentriamo le forze per i prossimi anni in cui ci saranno anni di difficoltà su pochi progetti importanti per settore nel senso che alcuni saranno teatrali altri saranno musicali altri saranno che ne so cinematografici però o quello che vogliamo però che siano veramente definiti insieme scegliendo delle persone che possano essere affidate da un punto di vista delle scelte per fare una sorta di giuria fammi dire ma senza interessi personali no? ma con interessi veramente del territorio esperti perché una cosa che manca oggi in tutti i settori italiani le competenze bravo le competenze che è una roba bestiale quindi con competenza per fare quel tipo di scelte e poi ci concentriamo e poi chiediamo a tutti di andare in quella direzione lì alla regione come dicevo prima ai comuni alle fondazioni agli imprenditori anziché fare tante piccole robe delle sigle imprese mettiamo insieme un pool di grandi imprenditori che tutti insieme sposano quei progetti allora diventa un'operazione pazzesca no? questo secondo me è il futuro l'unico futuro che possiamo prevedere oggi perché altrimenti non c'è storia e la seconda cosa in parallelo che mi piacerebbe fare è portare c'è molto interesse nelle imprese in generale ma anche nella cultura secondo me lo si può trovare degli imprenditori straniere di investire in Italia noi sottovalutiamo sempre quanto l'Italia si è amata all'estero l'Italia è l'impresa italiana che tanto qui è bituperata tanto all'estero non dimenticherò mai quando in ogni paese in cui andavamo portateci più imprese italiane più imprenditori italiani allora se noi sposiamo dei progetti attraverso proprio la rete di imprese li portiamo all'estero pensa che è bello se i cinesi venissero qua di investire in un'opera anziché come al solito a fare altre robe tipo prenderci proprietà intellettuali e portarci in Cina sarebbe una bellissima cosa senza contare che sporteremmo la cultura che è una roba che voglio dire facciamo da quanti anni? 2000 nei tempi di Gesù praticamente io ti ringrazio tantissimo di questa di questa chiacchierata ne approfitto per farti un po' in anticipo gli auguri di buon Natale e di buon anno e naturalmente ci vedremo prossimamente per nuove chiacchierate sulle prospettive culturali del territorio ti ringrazio molto grazie a te a presto ciao Matteo buongiorno anche con te ci buttiamo in questa cavalcata e questo interrogativo ma dove va la cultura in Piemonte e anche il teatro soprattutto il teatro dal tuo osservatorio nel mio osservatorio più che immaginare dove possa andare visto che le previsioni sul futuro sono previsioni che poggiano su più incognite che non su dati certi potrei partire da dov'è in questo momento la cultura piemontese che penso di poter dire senza tema di essere smentito è quella che più ha colto le opportunità intrinseche alla svolta digitale a cui siamo stati costretti in questo 2020 di emergenza sanitaria ovvero il Piemonte più che altre regioni è stata una regione che ha saputo convertire la cura che ha avuto negli anni per i propri territori non solo per il proprio pubblico ma per la propria comunità a cui era rivolta l'offerta culturale e ha saputo convertirla in un'offerta che a quel punto in maniera digitale poteva essere accessibile e può tuttora essere accessibile a comunità sempre più ampie in questo senso a comunità che parlano la lingua italiana e non solo penso che questa accelerazione importantissima a cui siamo stati costretti il nostro migrato nel tempo del primo lockdown e mi riferisco a quello di marzo 2020 ha costituito per la maggior parte delle istituzioni culturali piemontesi la sfida per poter parlare del proprio patrimonio ed un patrimonio che ha una fortissima valenza culturale territoriale a platee sempre sempre più ampie lo dico con un certo orgoglio perché ovviamente essendosi trattata di un'emergenza sanitaria diversi soggetti sono andati con tempi velocità e obiettivi diversi in questo senso il Piemonte è stato uno dei più attivi a poter rivendicare attraverso anche gli strumenti digitali la propria identità culturale anche e soprattutto la capacità di resilienza cioè riprogettare le proprie strutture la propria offerta in virtù di quella che era l'emergenza nuova del quotidiano quindi la sperimentazione il digitale ha favorito e in questo caso ha dato un'accelerazione alla pandemia all'emergenza sanitaria su questi nuovi processi e naturalmente sono nate delle iniziative tra l'altro molto interessanti proprio coordinate da te da Piemonte dal vivo in tal senso c'è l'interrogativo un interrogativo diciamo estremo e costante nato già dai tempi diciamo della tv educational ma il teatro si può fare in televisione può essere adesso diffuso nella piattaforma e con quali formule perché chiaramente non è riproponibile come la visione dello spettatore nuda e cruda nessuno oggi come oggi resisterebbe 5-10 minuti soprattutto di fronte a un computer su un'analisi del genere Piemonte dal vivo ho sperimentato una serie di iniziative vuoi velocemente fare una riflessione su questo e dirci cosa è successo la mia riflessione parte dalle tue stesse considerazioni che assolutamente condivido e non le riferisco solo allo spettacolo del vivo ci sono alcuni luoghi alcuni tempi in cui si celebra un rito non sono soltanto i teatri sono i musei sono i cinema ahimè fammi essere provocatorio sono anche le scuole noi abbiamo vediamo come la didattica a distanza non è la didattica in presenza è qualcos'altro la sfida nostra in questo momento così come per le scuole i musei i cinema e anche lo spettacolo dal vivo è immaginare dei dispositivi che non siano dei surrogati dell'esperienza in presenza ma che dopo l'emergenza sanitaria possano essere adeguatamente sperimentati per procedere in parallelo per intenderci e non fare un esempio a me strettamente riferito e diretto ma per poterci ragionare più laicamente nessuno pensa di sostituire una visita in presenza di un museo con quella che può essere invece una visita digitale a scopo educativo per le scuole e per una platea molto più ampia che non ha la possibilità di recarsi in quello specifico museo su quello spigolo della faccia della terra ecco per lo spettacolo dal vivo in questo momento noi e parlo della fine del 2020 abbiamo articolato una piattaforma che si chiama OnLive il cui tratto non è quella del surrogato dello spettacolo teatrale né quello del modello televisivo sono diciamo dei format che hanno la lunghezza del podcast e l'articolazione della serie tv quindi ci siamo ispirati a due formati che in questo momento risultano particolarmente accessibili e digeribili da un pubblico ampio e abbiamo articolato così una serie di contenuti che possono in un certo senso mantenere la relazione fra l'artista e il pubblico e d'altro canto possono essere anche immaginati interpretati come strumenti per altri tipi di vocazioni non per ultima quella della didattica a distanza una serie dedicata all'odissea con la lettura ad alta voce di un testo che è fondativo della nostra cultura europea e una lettura ad alta voce così come per esempio qualsiasi religione promuove nelle proprie sedi nei giorni dedicati penso possa essere uno strumento che può mantenersi nel tempo anche per utilizzi diversi in questo senso ciò che noi facevamo nei nostri teatri comunali o nei teatri di nostra gestione in questo momento perde la relazione in presenza ma sicuramente acquista una possibilità di accessibilità ulteriore sarei felice se qualche insegnante di altre regioni o di qualche scuola di italiano all'estero potesse utilizzare i nostri contenuti nella relazione a distanza con le proprie classi in questa diciamo situazione dove ci siamo precipitati caduti invischiati in una situazione di tempo non tempo di luogo non luogo perché i tempi si sono dilatati non c'è più una esatta diciamo percezione del tempo e anche del luogo perché i luoghi sono diventati virtuali in qualche modo in questo eventuale crossing di arti dove si mischiano più componenti nuove dimensioni espressive piccoli seriali sui social per esempio seriali di tre minuti piuttosto che come la vedi la prospettiva anche di Piemonte del Vivo anche dello spettacolo live integrato perché si tornerà ovviamente nei teatri prima o poi si tornerà nel 2021 ci auguriamo tutti ecco ma si tornerà in un altro modo quindi con degli spettacoli live ma anche con delle progettualità che vanno sul digitale offrendo le possibilità dei social di nuovi linguaggi come dicevo e come si pensava e come già state attuando crossing con vari arti volevo una riflessione provocazione riflessione su questo tema la provocazione non è tua ma la provocazione è una provocazione di un 2020 che ci ha spinti ad andare oltre quello che era diciamo un sano e solido conservatorismo del mondo del culturale italiano sembra paradossale ma il mondo della cultura spesso è un mondo più restio a porsi delle domande rispetto ad altri mondi come per esempio quello del marketing e del commercio sembra paradossale perché invece è un mondo che ha la funzione di interrogarsi o di interrogare la comunità a cui fa riferimento beh io penso che questo questi interrogativi siano quelli che porteranno esattamente ad esperienze integrate in futuro vorrei fare degli esempi perché parlare in termini troppo generici non mi piace mai c'è un tema che ha posto questa emergenza sanitaria che è il tempo e non tempo come facciamo noi a fissare su un libretto fisico una stagione teatrale che in questo momento non sappiamo se e in che misure e in che tempi potrà svolgersi ecco noi stiamo per esempio pensando per le prossime stagioni teatrali vista l'accelerazione digitale e l'abitudine che ha acquisito tutta la popolazione per esempio di andare al ristorante e invece di ricevere un menu di scannerizzare un QR code di garantire attraverso libretti digitali un'ulteriore esperienza al pubblico c'è un pubblico che a quel punto può avere il suo libretto sul suo smartphone che non significa avere il pdf del libretto che avrebbe avuto in mano ma una vera e propria mappa in cui può andare a indacare per ciascuno singolo spettacolo le precedenti realizzazioni la storia della drammaturgia la storia dell'autore storie relative al teatro in cui lo trova rappresentato in questo modo costruirsi con la guida ovviamente del curatore e del programmatore una propria mappa di navigazione attraverso cui accedere ad esperienze parallele allo spettacolo rappresentato questo vuol dire secondo me una grossa opportunità vuol dire strumenti in virtù di quali lo spettacolo che si va a vedere diventa più proprio perché viene integrato da una ricerca fatta in prima persona secondo diciamo un approccio 2.0 e interattivo che non ci scrolleremo più di dosso e questo può essere anche un vantaggio per noi ultima cosa ma mi stai già rispondendo le sfide del prossimo futuro le prossime progettualità non necessariamente del 2021 ma anche progettualità a più largo spiro le prossime sono sono abbastanza orvegenti abbastanza evidenti la prima integrare un approccio laicamente digitale con invece l'approccio tradizionale di qualsiasi nostra attività io parlo di spettacolo dal vivo ma penso per esempio alcune realtà museali all'estero sono molto più avanti di noi avendo integrato questi questi approcci per tutto il mondo della cultura che integra i due approcci il secondo aspetto è quello della rilevanza cioè nel prossimo futuro una cultura che nel momento in cui è stata fermata ha urlato la propria centralità deve individuare per che cosa è centrale sicuramente non solo più per le comunità che andavano a teatro andavano al cinema andavano al museo ma per una comunità molto molto più ampia siamo ancora in un paese in cui solo un italiano su due legge un libro durante l'arco di un anno non possiamo pensare di rivolgerci soltanto al 50% della popolazione o se parliamo di teatro ancora meno se invece noi vogliamo parlare del terzo punto sicuramente è il tema della sostenibilità cioè noi dobbiamo capire come l'intero sistema cultura è sostenibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista degli impatti sociali che dal punto di vista anche ambientale ti ringrazio moltissimo di questa chiacchierata ti auguro naturalmente ogni bene per i progetti di Piemonte del Vivo e a prestissimo alla prossima grazie a te Giulio questa è una piccola indagine magari a breve ne faremo altre con altri personaggi con altri interpreti l'importante era interrogarci su dove va la cultura del territorio l'abbiamo ascoltato abbiamo pensato di offrirvi questo quadro e una riflessione sulle nuove progettualità su quello che il territorio e la cultura ci potrà offrire nel prossimo futuro grazie a tutti